Qui si vede la ripartizione dei fondi che vanno a favore dell'LTC, del Long Time Care, e in questa sezione si vede la parte che è dovuta dai, chiamiamoli utenti, ma in realtà coloro che sono ancora a forza produttiva, insomma i lavoratori. Il problema della pensione sociale che possiamo vedere da questo film è stato detto che il contributo che ciascun cittadino deve versare varia in funzione dell'età e quindi del reddito, per cui inevitabilmente, essendo la popolazione sempre più anziana, la parte dei contribuenti sarebbe fisiologicamente diminuita, per cui lo Stato per contro contribuisce con la tassazione, che ovviamente va a compensare la parte che sarebbe mancata.